Buonasera, buonasera a tutte e tutti e bentornati in miniera. Buonasera Davide. Buonasera Francesca e buonasera a tutte le persone che hanno scelto di essere qui alle 18.30 di un martedì per sentirci parlare di fisica, qualunque sia la ragione per cui l'hanno fatto, non voglio indagare. Ma guarda che in realtà c'è stata anche una grande richiesta nei giorni scorsi perché effettivamente non avevamo detto proprio quando ci sarebbe stata la nuova puntata e quindi nei giorni scorsi sono arrivate un sacco di richieste, ma quando torna la rubrica con Davide, quindi eccoci qua. Quindi ecco, per la sera abbiamo saltato il timer, quindi insomma... Fantastico, e lo possiamo dire chiaramente, secondo me, ogni tre settimane saremo qui alle sei e mezza salvo imprevisti a parlare di fisica, che diciamo anche noi. Perché facciamo sempre, sapete che ci sono anche la rubrica giuridica e quella economica, quindi le alterniamo tra loro, quindi ogni tre settimane ci trovate qui alle 18.30. Quindi buonasera, innanzitutto grazie a Jonathan Card per l'abbonamento e buonasera a tutti e tutti. So che vi state collegando, quindi mano a mano arriverete. Comunque, come sempre, Davide ci racconterà oggi, anzi ci spiegherà alla perfezione uno dei... Lo so che ti sto mettendo l'ansia dicendo alla perfezione, però appunto parleremo del principio di indeterminazione e ovviamente voi dalla chat potete partecipare attivamente, quindi qualora qualcosa non vi fosse chiaro, segnalatecelo, se avete domande specifiche segnalatelo. Peraltro c'è già una domanda per Davide. Beh, se vuoi me la puoi pure porre, tanto non dobbiamo aspettare che arrivino un po' di persone. No, no, non c'è problema, mano a mano arriveranno, vedo che già stanno arrivando più persone. Allora, Daniele dice... Ciao Francesca, ciao Davide, grazie molto per questa bella rubrica, grazie Daniele. Io avrei una domanda per Davide, ma purtroppo non potrò seguire la live per molto e me la recupererò indifferita. Dal titolo la mia domanda c'entra fino a un certo punto, ma sarei comunque davvero molto contento se Francesca riuscissi a porre la domanda a Davide. Hai mai sentito parlare, Davide, della The Sitter Invariant Relativity? Chiedo perché quando l'ho studiata l'ho trovata immensamente affascinante. Ora io non so se l'ho letta male. Super sommicapi e non ho un'opinione forte, onestamente. Non ho un'opinione forte, fortissima, è una cosa che ho sentito menzionare però. Me la posso andare a studiare, posso fare questa promessa qua. Visto che il problema di The Sitter, io poi adesso qua io suppongo che l'ascoltatore sia un po' dentro il dibattito perché adesso molto rapidamente il nostro universo sembra essere entro certi limiti simile a una cosa che noi chiamiamo spazio-tempo di The Sitter, ok? Che è uno spazio-tempo con un certo valore di questa costante cosmologica che è una densità di energia, la famosa energia oscura di cui si parla ogni tanto, ok? Questa cosa qua si chiama spazio-tempo di The Sitter. E c'è un problema fondamentale, nel senso che sembra molto difficile formulare una teoria di gravità che funzioni con la meccanica quantistica, sta famosa gravità quantistica di cui abbiamo già parlato, tra le altre cose, nello spazio-tempo di The Sitter. Sembra molto facile farlo, abbiamo tanti esempi, nel cosiddetto spazio di anti-The Sitter, dove metti un segno meno davanti alla costante cosmologica e ce l'hai negativa, qualunque cosa, quindi una specie di, una roba un po' particolare, no? Lo spazio di anti-The Sitter è una cosa che somiglia un po' a quei quadri di Escher dove i disegni si fanno più piccoli man mano che vai verso il centro, sono degli spazi cosiddetti iperbolici a curvatura negativa, ma adesso, insomma, questa è una cosa un po' stranetta, ma per quanto assurdi è molto più facile lavorare lì che nello spazio-tempo di The Sitter, però il nostro universo pare essere simile allo spazio-tempo di The Sitter, quindi poi il dibattito si apre, c'è qualcosa che non capiamo, come bisogna farlo, bisogna riformulare appunto la meccanica quantistica per farla funzionare in The Sitter, oppure semplicemente The Sitter non funziona e c'è qualcosa sotto. Ad esempio io sono di questa scuola qua, mi sono convinto, e ci sono degli argomenti, magari in futuro avremo occasione di parlarne più nel dettaglio, ma poi dobbiamo arrivare al principio di indeterminazione, anche se le due cose hanno a che fare l'una con l'altra, che il nostro universo, questo spazio-tempo di The Sitter, in realtà non sia uno stato stabile, non sia un oggetto stabile come, non lo so, una palla appoggiata su un tavolo, o in una valle, meglio in una valle, è più simile a una palla appoggiata in cima a una collina, che a un certo punto scivolerà giù. E quindi questa è l'idea che The Sitter sia una cosa instabile, da un punto di vista della meccanica quantistica, e quindi a un certo punto si ritrasformerà in uno spazio a curvatura zero, che non ha questa espansione accelerata. Questo mi serve per dirvi solo una cosetta, poi arriviamo al principio di indeterminazione, qui ho messo un po' dei paletti, poi capisco di essere stato confuso, perché avevo vomitato addosso a un dibattito contemporaneo, tra i più complicati della fisica teorica, in quattro parole incroce con la fretta. Questa cosa qui avrebbe un'implicazione diretta, però che è molto più pratica, molto più importante, ovvero il fatto che ogni volta che qualcuno vi dice che l'universo finirà espandendosi così tanto, si parla spesso, ci sono anche tanti divulgatori che dicono questa cosa qua, l'universo in un'espansione accelerata, a un certo punto si espanderà così tanto che tutto sarà lontanissimo, tutto non potrà più incontrare, continuerà a espandersi all'infinito e le cose saranno così lontane che non si incontreranno. Ecco, questa cosa non la sappiamo. Viene detta, ma non la sappiamo. È un'estrapolazione di quello che vediamo adesso, però assume un sacco di cose. Assume, ad esempio, che The Sitter, questo spazio con un'espansione accelerata, sia stabile per sempre e tutti gli indizi che abbiamo in realtà ci suggeriscono che così non è. che The Sitter in realtà sia instabile, che quindi a un certo punto, o no, l'espansione per un effetto quantistico si fermerà. Però ecco, diciamo che ci siamo, mi sembra sufficiente, o spero che non sia ascoltato e non sia soddisfatto, andrò a guardarmi meglio le cose, così magari ne parliamo la prossima volta. Peraltro Alex ti ringrazia che sta vedendo i tuoi vecchi video e sta leggendo Jeb. Ah, Jeb. Guarda, questa è stata la più grossa follia della mia storia YouTube, ma sono quasi sul punto di replicarla. Non so se tu conosca questo Good Lesher e Bach, questo libro un po' particolare che parla di sistemi ricorsivi che tornano all'inizio e affrontano... Ah, tipo cicli. Come? Tipo cicli. Sì, tipo cicli, ma in cui ti trovi come le scale di Escher, appunto, l'abbiamo già nominato, no? Che le sale, poi ti trovi... Quindi lui parla di Escher, parla della musica di Bach che secondo lui funziona in questo modo, parla del teorema di Gödel in matematica che funziona più o meno con una autoreferenza circolare o una cosa così, in realtà per parlare del problema della coscienza che secondo lui funziona più o meno in questo modo. È un mattonazzo pubblicato da Delphi e ai tempi c'è una rubrica su YouTube in cui si discuteva settimana per settimana un capitolo del libro. Ma bellissimo! Un'infinità. Sono questi video di un'ora, questa playlist, e la vista molto più gente di quanto mi aspettassi, quindi sono felice di sapere che c'è ancora qualcuno che segue già. Sì, ha detto, lo stanno aiutando molto, quindi top. Bene, bene, bene. Bene, poi le domande, ragazzi, che ho visto che avete fatto le facciamo dopo, così facciamo parlare intanto Davide, se no poverino lo catturiamo subito con mille domande. Intanto introduciamo l'argomento di oggi e poi dopo ovviamente potete fare tutte le domande che volete, assolutamente. Poi Davide vi risponderà se rientrano nel tema o se rientrano comunque nelle sue conoscenze, perché noi qui in Miniera, come sempre, sapete che siamo per il... non è il mio tema, quindi non posso approfondire. Lo faccio sempre anche io, lo facciamo tutti, quindi è giusto così. Quindi, prego Davide, iniziamo a parlare di questo principio, perché io prima l'ho nominato, ovviamente Heisenberg si sono riferiti tutti per farmi battute riferendosi a un altro Heisenberg che non è certo quello esperto di fisica, quindi niente, ti chiederei di partire da lì, allora se vuoi. Portavano tutti e due il cappello, però, aveva il cappello anche lui. Ora, il principio di indeterminazione di Heisenberg è uno dei postulati della meccanica quantistica, ok? Quando ci siamo messi a formulare la meccanica quantistica, ne abbiamo già parlato in passato, ma oggi ripeteremo alcune delle cose che abbiamo detto e poi arriveremo con calma a cos'è la meccanica quantistica, le cose erano un po' confuse, no? Cercavamo di dare un senso a tanta evidenza sperimentale molto complicata da capire, saltavano fuori principi, idee, formule, spesso espressi in linguaggi diversi, usando matematiche diverse, e ci è voluto tanto tanto tempo, intanto per rendersi conto che alcune delle cose erano appunto la stessa cosa detta in lingua diversa e che le cose si potessero mettere in un'architettura unica, no? In un unico oggetto che chiamiamo meccanica quantistica, una teoria fisica. E ci sono voluti ancora altri anni affinché qualcuno la scrivesse per bene. Questo qualcuno, poi anche lì la paternità, come sempre, no? Si può andare, eh? Però è Von Neumann, il signor Von Neumann, che l'abbiamo già menzionato l'altra volta, per la teoria dei giochi, la deterrenza, queste cose qua, e l'architettura fondamentale dei computer, è anche l'uomo, o il superuomo, che ha formalizzato gli assiomi della meccanica quantistica, quindi ha scritto la meccanica quantistica come si scrive una teoria matematica. E tra questi, quindi, assioma 1, assioma 2, assioma 3, assioma 4, e da lì si deriva tutta la teoria. Oggi, chi insegna bene la meccanica quantistica, io ho avuto la fortuna di avere un ottimo professore di meccanica quantistica, la insegna partendo dagli assiomi di Von Neumann. Magari qualcosina prima poi arriva a questa formulazione super chiara da cui poi discende tutto. Insomma, è un po' il modo moderno in cui si fa questa roba. Il principio di indeterminazione di Heisenberg è uno di questi assiomi, quindi ora ci concentriamo su un aspetto della meccanica quantistica. Poi la guardiamo un po' più in generale, ma questo è quasi un disclaimer. Non prendete questa live come una trattazione completa della materia. Se poi c'è interesse, ma nemmeno della teoria in quanto tale, nemmeno degli assiomi, no? Non metteremo sul tavolo nemmeno tutti gli assiomi della meccanica quantistica, quindi se percepite dei buchi o dei passaggi incompleti può darsi che la ragione sia quella, possiamo tornarci su. Ora, il principio di indeterminazione di Heisenberg vediamo se lo riusciamo a trovare da qualche parte. Che dici? Me lo riusci a condividere, così facciamo sta roba un po' televisiva. La formula, sì, però vi offendete, perché io c'è quella di Wikipedia che ho davanti, però. Va benissimo, va benissimo. Wikipedia è, a quanto meno in inglese, il punto di partenza per lo studio della fisica e della matemática. Sempre, va bene uguale, va bene uguale, va bene uguale. Mi ho fatto un po' il paraculo e ho messo le mani avanti. Aspetta che lo zoomiamo, perché sennò così non si vede assolutamente niente. Eccolo lì sotto. Guarda, quello lì, quello lì, quello che hai lì sopra va benissimo. Eccolo, scusate, non l'avevo visto, eccolo qui. Eccolo qui. Ora, quello che vediamo è un prodotto, intanto, dal lato sinistro, come sempre, tutte le nostre equazioni hanno un lato sinistro e un lato destro. A sinistra c'è un prodotto, abbiamo questo delta x per delta p, questa è una formulazione, poi ovviamente ci sono modi più formali di scrivere questa cosa, maggiore o uguale a un numero che chiamiamo h tagliato fratto 2. Ora, partiamo dal lato destro che è facile. Quell'h tagliato è niente più, niente meno che una costante fisica, la cosiddetta costante di Planck ridotta, la costante di Planck diviso a seconda delle convenzioni, di solito diviso 2pi greco. La costante di Planck è un oggetto che appare spesso in meccanica quantistica, anzi qualcuno la definirebbe la costante che ti dice quanto quantistico è il tuo sistema, ok? Quindi, è un po' come la costante di Newton per la gravità, la costante di Newton ti dice quanto è forte la gravità, la costante di Planck al netto di un po' di sottigliezze ti dice quanto rilevanti sono gli effetti quantistici. Quindi, in un universo con una costante di Planck molto più grande, gli effetti quantistici sarebbero visibili a scale molto più grandi o in molti più sistemi. In un universo con una costante di Planck uguale a zero, vorrebbe la meccanica classica. Ok? Quindi, spesso, quello che i fisici chiamano limite classico significa prendere la meccanica quantistica e fare il limite come si fa in quinta liceo, no? I limiti costante di Planck che va a zero. Quella cosa lì, se la fai bene con certi accorgimenti, come sempre, non è tutto così preciso preciso, ci vuole un po' di attenzione, ma in linea di principio ti dà la meccanica classica. Ok? Quindi, la prima cosa che ci dice tutta questa storia sulla costante di Planck è che questa è un'equazione che ha a che fare con la meccanica quantistica. Ogni volta che vedete una costante di Planck o una costante di Planck ridotta con quella barretta, adesso non è così importante quale delle due. La ragione per cui abbiamo introdotto la costante di Planck ridotta, che, ripeto, è uguale a costante di Planck fratto 2pi greco, poi ognuno la definisce un po' come vuole, è solo perché spesso la costante di Planck appare fratto 2pi greco e quindi, sai cosa, diamo un nome a sta cosa così non dobbiamo riscriverci il 2pi greco ogni volta. Cioè, è solo questo. Ma no, effettivamente ha senso se ci vengono, così almeno è un simbolo che dà per scontato questo. Ecco, questa è una cosa molto importante. Saper la fisica significa anche sapersi destreggiare in delle notazioni strane. Tutti i fisici definiscono le unità di misura e le costanti come vogliono. A volte all'inizio dei paper, a volte nemmeno, a volte lo lasciano implicito e lo fanno in una maniera che renda tutto più facile, no? Ad esempio, se tu ti occupi di fisica quantistica, modifichi le tue unità di misura in modo che la costante di Planck sia uguale a 1 e a dimensionale senza unità di misura così la cancelli, la butti via e non te la devi portare dietro. È solo un 1 che appare nelle tue. Così semplifichi i ragionamenti. Semplifichi le equazioni, sì, esatto. Poi centriamo se vuoi, anzi, dedichiamo una puntata alle unità di misura perché sono molto più interessanti volentieri perché a me quello è veramente un mare enorme che mi piacerebbe approfondire. Sì, sì, e poi, insomma, adesso non mi faccio prendere perché sennò partirei con il corrente. Lo segniamo mentalmente. Quello che voglio dirvi è che ogni volta che vedete una costante di Planck o una costante di Planck ridotta sapete che si ha a che fare con la meccanica quantistica e quantomeno mentalmente provate a mandare quella costante di Planck a zero e vedere cosa succede per avere un'idea vaga, questo non vale sempre ma in linea di principio, di qual è l'analogo classico di quella cosa lì. Cioè, cosa succede quando passi dal mondo quantistico al mondo della fisica classica. Sulla sinistra noi abbiamo due delta dove delta è un po' quello che si intende di solito in fisica con un delta, una differenza, una variazione, no? Quindi, in questo caso, un'incertezza, cosiddetto principio di indeterminazione o di incertezza, uncertainty in inglese. Quindi abbiamo l'incertezza su una cosa che chiamiamo x moltiplicata per l'incertezza, l'incertezza in senso stretto, cioè l'incertezza che ho nel sapere il valore di quella x. Poi diciamo cos'è, esatto, un certo errore sulla misura di quella x, che poi diremo cos'è, moltiplicata per l'errore sulla misura di una certa p che lì ha una piccola x che ci fa intendere che p e x hanno a che fare l'uno con l'altro, è maggiore o uguale a h tagliato fratto 2. Ora, cosa sono x e p? Sono quello che in fisica chiamiamo variabili coniugate. Ok. Perché sono stato molto sul vago, e non ho usato il solito esempio, quello che c'è anche scritto qua sotto, no, posizione e quantità di moto, perché in realtà il principio di indeterminazione di Heisenberg vale per tutte le coppie di variabili coniugate che abbiamo in fisica, dove per variabili coniugate di solito si intende una certa quantità fisica, ad esempio la posizione di un oggetto, e un'altra quantità fisica che ti dice quanto la prima cambi nel tempo. Quindi, ad esempio, la posizione e la velocità. Ok? Questo è un esempio, poi anche lì ci sono tutte le note del caso, ma per oggi ci basta questo. Quindi, concentrandoci, qui mi serviva solo chiarire che il principio di Heisenberg non vale solo per posizione e velocità, ma anche per tante altre coppie di quantità fisiche, di quelle cose che noi chiamiamo osservabili, ciò che possiamo osservare, misurare. Il linguaggio della fisica è sempre pane pane vino al vino. Il caso della posizione e la velocità, però, è in qualche modo il più emblematico. No? Perché concentrandoci su quello, e poi ricordando che possiamo estendere questa cosa qua, la formula di Heisenberg ci dice che l'incertezza sulle nostre misure della posizione di un oggetto. Ok? Quindi, quella incertezza su dove l'oggetto sia, no? Quel famoso errore, questa cosa è lì più o meno un centimetro, no? Lo facciamo in fisica alle superiori. Proprio quella cosa lì. Moltiplicata per l'incertezza che abbiamo sulla misura della sua quantità di moto, che è una cosa che abbiamo menzionato la volta scorsa, che però è il prodotto tra la massa e la velocità, bla 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 bla. Ecco, diciamo la velocità perché qui la massa la teniamo costante, quindi non c'è, facciamo che non c'è un'incertezza sulla massa per fare le cose facili e diciamo posizione-velocità. L'incertezza sulla posizione moltiplicata per l'incertezza sulla velocità è maggiore o uguale a un certo numero. Ok? A un certo numero. Che ovviamente avrà le stesse unità di misura perché le mele vanno comparate con le mele, le pere vanno comparate con le pere. Ok. In pratica cosa significa? Che se io poi andiamo più nell'astratto, ma cerchiamo di tenerlo sul pratico il più a lungo possibile. Ok. Quando sono nel mondo quantistico, in realtà sempre, in realtà sempre, ma poi ci arriviamo, se io voglio rendere più precisa la mia misura della posizione di un oggetto, devo per forza rendere meno precisa la mia conoscenza della sua velocità. Ok? E viceversa. Perché devono, il prodotto deve essere maggiore o uguale di un certo numero. Certo. Ok? E quindi se io riduco delta x deve aumentare delta px e viceversa. Ok? Quindi, e questo vale anche al limite, se io conosco con esattezza, con errore zero, la posizione di un oggetto, ho un errore infinito sulla sua velocità. Perché qualunque numero finito lì ti darebbe zero a sinistra che non può essere maggiore o uguale di un numero di un numero finito. Ok? E viceversa. Quindi, conoscere con esattezza la posizione di un oggetto significa avere infinita incertezza sulla sua velocità e viceversa. E questo vale per anche altre variabili. Poi, cerchiamo di capire come si concettualizzi questo nella fisica. Prima vi darò un po' di storia. Conoscendo il significato di questa formula, ora possiamo capire anche cosa succede nel caso classico, no? Perché se mandiamo h a zero, h tagliato a zero e quindi ci ricordiamo conduciamo alla fisica classica, alla fisica classica, vediamo che a sinistra possiamo avere conoscenza perfetta della posizione e della velocità, che è quello che vediamo nella vita di tutti i giorni, al netto degli errori di misura dei nostri strumenti, no? Ma possiamo costruire strumenti arbitrariamente precisi, o almeno intuitivamente ci sembra che sia così, che ci permettono di conoscere la posizione e la velocità, ad esempio, di un'automobile. Il fatto che nella vita quotidiana noi abbiamo questa impressione dipende sostanzialmente dal fatto che quell'h tagliato sia molto, 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 molto piccolo. Ok? Ho voluto proprio parire un rispetto. bene, perché uno deve capire un po' di cui parliamo in termini di grandezza. Capito, quindi se sì, adesso evito di provare a darti il numero, appunto perché noi giochiamo sempre con l'unità di misura, quindi in quelle che uso io, H vale 1, ma 1 è un numero molto piccolo, perché gli altri sono più grandi, però in unità standard non mi ricordo quanto valga, la cosa importante è che se tu consideri la posizione e la velocità di un'automobile quei numeri sono così grandi e l'incertezza dei tuoi strumenti di misura, del tuo metro e del tuo autovelox per misurare la velocità sono così più grandi di H tagliato che il problema non si pone nemmeno. Ok? Quando fai delle misure su oggetti molto, molto piccoli, quantistici, delle particelle degli atomi, invece H tagliato è una cosa che non puoi trascurare. Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ok. Da dove salta fuori? Adesso cerchiamo di concettualizzarlo in modo un po' più un po' più ampio. La schermata? Sì, secondo me la possiamo chiudere. Esatto, non ci siano domande o cose di questo tipo. No, per il momento no. Ok, nemmeno tu? Sono stato chiaro fino a questo punto? No, io ho capito tutto. Sì, lo sai che sennò ti fermo perché a parte vedresti la mia faccia confusa. Sì, ma sei che poi noi ci si perde tra le nuvole, non ci si accorge di quello che succede attorno. Da dove salta fuori questo oggetto un po' particolare? Da un'evidenza sperimentale come sempre nella grande scienza, nella scienza rilevante, gli esperimenti sono il punto di partenza o quantomeno un passaggio obbligato della ricerca. perdonami un po' di acqua mi serve. Facendo facendo tutta quella serie di esperimenti che abbiamo fatto a inizio novecento che ci hanno portato alla meccanica quantistica ci si è accorti di tanti comportamenti strani delle particelle, ad esempio degli elettroni o dei fotoni su cui eravamo finalmente in grado di fare esperimenti abbastanza precisi. E tra tutti questi comportamenti ce n'è uno forse un po' più strano degli altri. I fisici si sono accorti che misurando la posizione e poi avendo due particelle uguali, uguali, le prepari nello stesso identico modo ovvero le sputi con lo stessa tecnica di produzione di particelle, come la macchina che spara le palline da baseball, usi la stessa macchina messa nello stesso punto impostata nello stesso modo e quindi spari fuori in due particelle identiche. Nella prima misuri prima la posizione e poi la velocità. Nell'altra misuri prima la velocità e poi la posizione. Fai questa cosa tante volte per assicurarti che le cose funzionino bene, no? E ti accorgi, perché poi devi sempre fare una statistica, e ti accorgi che misurare prima la velocità e poi la posizione o prima la posizione e poi la velocità sono due cose diverse. Questo è un po' strano. Questo, l'ordine in cui facciamo le misure cambia i risultati delle misure. Questa è l'osservazione, ancora a un livello molto confuso, e questa è l'evidenza che hanno trovato. E questo contraddice un po' la nostra intuizione sul mondo classico, no? Perché o io posso vedere dov'è una macchina o usare l'autovelox per vedere quanto è veloce, o l'opposto non dovrebbero influenzarsi l'uno con l'altro, no? La macchina corre, immaginiamo una strada con dei segni come un metro, no? E degli autovelox. Se io guardo prima dove sta passando e poi misuro la velocità, o prima misuro la velocità e poi guardo dove sta passando, le due cose non dovrebbero influire l'una sull'altra. Invece i fisici si sono accorti, chi faceva gli esperimenti e poi chi lavorava sulla teoria, che l'ordine in cui compi queste operazioni importa. Nel senso che misurare la posizione interferisce col misurare poi la velocità e viceversa. E questo vale per tutte le coppie di variabili coniugate. Ora, questo si chiama principio di Heisenberg perché naturalmente Heisenberg è la persona che è riuscita. Poi ci ricongiungeremo a quello che, a quello, alla forma che abbiamo dato al principio prima. che è una conseguenza di quello che ti sto dicendo adesso. Heisenberg è naturalmente la persona che ha un po' messo in ordine concettualmente questo discorso. Poi leggenda vuole, pare fosse proprio così, poi i fisici hanno questa tendenza a narrarsi in modo un po' eroico, quindi c'è sempre un po' di apocrifo anche quando la ponte è primaria. È affascinante, dai. È affascinante, molto affascinante. Heisenberg è un personaggio con una vita un po' strana e per certi versi controversa, per altri anche sconosciuta, nel senso è uno che ha lavorato, è stato un personaggio chiave nel progetto della bomba nazista, non si capisce bene se come ci credesse davvero, c'è stata sta conversazione con Bohr di cui non sappiamo nulla e che poi ha portato Bohr a essere molto preoccupato, questo ha incentivato l'Occidente a lavorare sulle bombe atomiche, non si capisce se Heisenberg abbia boicottato è una cosa un po' complicata. Fatto sta, che pare che Heisenberg, poi lì c'è stato sul serio, poi il momento di illuminazione bisogna credergli, no? Ma Heisenberg fosse nell'isola di Helgoland, un'isoletta del mare del nord, dove si andava tipicamente, forse ci si va ancora per curarsi della cosiddetta febbre da fieno, che non ho nemmeno idea di cosa sia, ma ha proprio il nome da una malattia da romanzo di Dostoevsky, no? Esatto, sì, perché sempre è sentita in letteratura, però poi andando a stringere... Precisamente, chissà cos'è la febbre da fieno, magari la chat lo sa, comunque per curarla salgava a Helgoland e Heisenberg era, un giovane Heisenberg era a Helgoland, quindi adesso c'è tutta la storia, lui che sale sugli scogli, guarda l'alba, di notte si muore la felica, si rende conto, che questa questione qui, questa questione delle misure, ha a che fare con la proprietà commutativa, ok? O meglio, che le osservabili fisiche, gli oggetti che possiamo misurare, talvolta, non sempre, ma talvolta, come abbiamo detto il principio di Heisenberg non si applica sempre ma a coppie di osservabili cosiddette coniugate, non soddisfano la cosiddetta proprietà commutativa, l'ordine delle operazioni conta, ok? Però c'è un problema, c'è un problema, in fisica classica la posizione di un oggetto è un numero e la velocità di un oggetto è un numero e i numeri commutano, il prodotto tra numeri commuta, no? e quindi non possiamo se vogliamo tener conto di questa roba qua, se vogliamo tener conto del fatto che scoprire la posizione di un oggetto e scoprire la sua velocità sono cose che non commutano, non possiamo più usare i numeri per descrivere queste quantità. Dobbiamo usare oggetti un po' più complicati e lì l'illuminazione e esistono degli oggetti matematici che non commutano, il cui prodotto non commutano, tali che il loro prodotto non soddisfia la proprietà commutativa. Questi oggetti sono le matrici. Chiunque abbia fatto un corso di algebra lineare o insomma qualcuno le fa anche al liceo adesso, però insomma le matrici vanno pensate come delle tabelle di numeri. Tu hai presente i vettori, hai presente i vettori, i vettori sono righe di numeri. Quando tu passi da un numero a un vettore parti da un numero in realtà poi hai n numeri. Una matrice è il passaggio dopo. Diciamola così. Tu hai una tabella di numeri con righe e colonne. Ok. Come un sudoku. Ok. Le matrici non commutano. Cioè fare matrice A per matrice B è diverso da fare matrice B per matrice A. Ah ok, quindi come quello che stiamo dicendo ora. Come quello che stiamo dicendo ora. Adesso senza entrare nei dettagli matematici poi c'è una cosa che si chiama diagonalizzazione quello che importa è cavar fuori dei numeri da una matrice. Ok. Caviamo fuori dei numeri qualunque sia la maniera in cui lo si fa matematicamente Heisenberg ha sta intuizione qua. Cavolo le osservabili fisiche si possono descrivere con delle matrici delle matrici un po' più complicate di quelle che si studiano di solito ad algebra lineare perché tipicamente sono infinito per infinito non 7 per 3 o 5 per 5 e questo infinito non è nemmeno l'infinito dei numeri reali dei numeri naturali ma l'infinito dei numeri reali. Quindi la matrice che descrive la X questa tabellona di numeri la posizione di un oggetto voi la dovete immaginare come una tabellona gigante di numeri con infinite righe e infinite colonne ma queste colonne sono infinite nel senso dei numeri reali quindi non è che sono numerabili 1, 2, 3 sono dense se guardi tra due ce n'è sempre un'altra è una cosa un po' complicata che richiede della matematica complicata quindi sono anche scusati per non esserci arrivati prima francamente comunque questa è stata una grande rivoluzione mi importava dire questo perché sono sicuro che tutti quelli che hanno fatto algebra lineare adesso abbiano una lampadina accesa in testa nel senso che le matrici poi sono oggetti molto molto semplici con cui si riesce a lavorare e questa è la base il fondamento della meccanica quantistica le osservabili sono tabelle di numeri e non numeretti da questo si arriva con un salto a quello che abbiamo detto prima nel senso che nel senso che in meccanica quantistica gli oggetti riprendo una cosa che ci siamo detti in passato ok ci siamo detti in passato gli oggetti tutti gli oggetti dell'universo tutti i sistemi fisici sono descritti da una cosa che si chiama stato ok lo stato di un sistema in fisica classica dare lo stato di una tazza significa dire dov'è la tazza e quanto veloce sta andando sei numeri niente più di questo ok perché è qua a una certa velocità io ho descritto completamente la tazza dare lo stato della tazza significa descriverla completamente mi raccomando fermami se c'è qualcosa che dico che è un po' strano o non chiaro in meccanica quantistica lo stato di un sistema fisico è un oggetto un po' più particolare non un po' più strano e lo possiamo guardare da diversi punti di vista ovvero lo stato è una cosa in sé ok ma noi adesso che sappiamo che la posizione e la velocità sono degli oggetti che non funzionano tanto bene l'uno con l'altro possiamo guardare il nostro stato mettendoci gli occhiali della posizione ok e mettendoci gli occhiali della posizione guardando il nostro stato dal punto di vista dell'osservabile posizione ok vedremo il nostro stato non come in meccanica classica come un numerino la palla è lì ma come una distribuzione di probabilità sui numeri ok sulle posizioni ok e questo ha che fare matematicamente col fatto che è reso possibile dal fatto che stiamo usando delle matrici adesso senza entrare nei dettagli mi interessava buttare questo amo ma poi non andiamo troppo nei tecnicismi se poi voglio non lo facciamo noi abbiamo il nostro stato immaginiamo proprio come un oggetto una scatola noi lo possiamo guardare dal punto di vista della posizione e vediamo una certa distribuzione di probabilità cosa significa questo che noi se facciamo una misura di posizione abbiamo una certa probabilità di trovare la cosa su cui stiamo facendo la misura in un punto o nell'altro la tazza può essere qui al 10% qui al 20 qui al 30 qua al 40 ok questa è una distribuzione di probabilità in ogni punto dove la posso c'è una probabilità appiccicata ok adesso mi tolgo gli occhiali della posizione e mi vorrei tanto aver preparato due paio di occhiali e mi metto gli occhiali della velocità mi metto gli occhiali della velocità mi metto gli occhiali della velocità e guardando con questi il mio stato io lo vedo da un altro punto di vista lo vedo dal punto di vista della velocità e cosa vedo una distribuzione di probabilità sulle velocità che posso misurare ok quindi il nostro stato può essere rappresentato come distribuzione di probabilità sulle posizioni o può essere rappresentato come distribuzione di probabilità sulle velocità quindi sempre o perché come abbiamo detto prima non ci può essere cioè devono essere diversi necessariamente perché perché adesso ci arriviamo mi hai fatto una domanda molto on point molto on point molto on point quando due variabili sono coniugate noi non possiamo metterci in contemporanea un paio di occhiali e l'altro se due variabili non lo sono sì se due variabili non lo sono sì se vogliamo la posizione e il colore di un oggetto possiamo avere una distribuzione di probabilità su entrambi allo stesso tempo no ma se sono posizione e velocità no perché perché le misure di uno interferiscono con le misure dell'altro in particolare cosa succede succede che dobbiamo chiamare in causa un altro postulato della meccanica quantistica ovvero il postulato del collasso della funzione d'onda adesso senza entrare nei nomi diciamo che io ho una particella che è in un certo stato ok e voglio misurare la sua posizione voglio misurare la sua posizione il questa misura mi darà un certo risultato ma nel momento poi il mio stato era una distribuzione di probabilità no io faccio la misura mi salta fuori una certa posizione ma nel momento in cui mi salta fuori quella posizione il mio stato non è più una distribuzione di probabilità perché io so dov'è la particella cioè lo era prima ma non lo è poi perché nel momento in cui faccio la misura è in un punto che è misurato esatto quindi questo è il collasso della funzione d'onda io prima immaginavo la mia particella come un oggetto che è in più punti allo stesso tempo ma nel momento in cui la misuro il risultato è casuale dato da quella distribuzione di probabilità ma facendo la misura io costringo la particella ad essere in un punto specifico ok 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 ora ora perché le misure di posizione velocità non si possono fare insieme e non commutano perché nel momento in cui io faccio una misura di posizione io sto portando l'indeterminazione sulla posizione a zero e quindi la distribuzione lo stesso stato lo stato che posso guardare come posizione precisa in un punto se mi tolgo gli occhiali posizione e lo guardo dal punto di vista della velocità è uno stato spalmato ovunque dove l'indeterminazione è totale è una specie di cosa che esiste in tutte le velocità possibili se io misuro la velocità trovo una velocità specifica e mando completamente in vacca la rappresentazione e posizione ok se qualcuno poi questo lo butto lì così se qualcuno conosce la trasformata di Fourier che si usa tanto in ingegneria queste cose qui è questo per avere una devi sacrificare l'altra quindi il gioco è questo se noi immaginiamo il nostro stato le due possibili rappresentazioni posizione e velocità ok tu è come se avessi delle manopoline più stringi la distribuzione e posizione più la rendi precisa più si allarga quella sulla velocità perché il prodotto delle larghezze deve essere maggiore uguale di h tagliato mezzi e questo è un modo più pratico per dire che sono matrici che non commutano ok questo è un modo più pratico per dire che sono matrici che non commutano perché perché quando due matrici commutano tu puoi estrarre un numero da entrambe in contemporanea e avere una distribuzione precisa in entrambe le osservabili in entrambi i valori cioè se la velocità e la posizione commutassero gli occhiali velocità e gli occhiali posizione si potrebbero mettere nello stesso momento e quindi noi potremmo contemporaneamente avere un valore preciso di posizione e di velocità facendo la misura insieme perché sarebbe un'unica distribuzione su entrambe essendo che non commutano gli occhiali non si possono mettere nello stesso momento e quindi dobbiamo guardare la posizione quando facciamo la misura sulla posizione mandiamo in vacca la velocità e o viceversa questo è il gioco dell'indeterminazione di Heisenberg non abbiamo tantissimo tempo possiamo svilupparla ancora se hai domande buttale pure una domanda di Alex che dice esistono osservabili che sono invece compatibili certo in realtà quasi tutte sono compatibili tra loro anzi esaurire l'informazione su un sistema quantistico questo ci dice ogni sistema quantistico omette un numero massimo di osservabili tra loro compatibili ok a livello classico descrivere questo oggetto è dare la sua posizione e la sua velocità a livello quantistico descrivere un sistema significa dare il numero massimo di osservabili compatibili che io posso dare su quel sistema che significa che quasi sempre io avrò una scelta tra due e sceglierne quindi scelgo velocità o posizione scelgo la posizione scelgo rotazione un momento scelgo una e scelgo in tutte le coppie quella che voglio e le esaurisco e a quel punto non sempre sono coppie a volte sono famiglie di tre o di quattro o di cinque che non commutano tra loro poi adesso entriamo nel difficile ma sì certo certo tipicamente tu fai proprio questa cosa qua in fisica devi trovare una famiglia di osservabili che tra loro commutano e che quindi possono essere misurate nello stesso momento e tali che le misure su di una non interferiscano ovviamente con le misure sull'altra e che quindi ti permettono di descrivere il tuo sistema con una serie di numerini perché se non commutassero tra loro nel misurare un numerino un altro si trasformerebbe in una distribuzione e viceversa quindi non avresti mai tutto sotto controllo sposteresti solo l'indeterminazione da una parte all'altra questo è un po' il gioco questo è un po' il gioco una delle implicazioni dirette perché poi noi di implicazione vogliamo parlare è che la materia è stabile se questa cosa non valesse la materia collasserebbe tutta su se stessa questa è una cosa abbastanza importante è abbastanza importante ed è una delle ragioni che poi ci hanno portati a sviluppare la meccanica quantistica questa è una specie di euristica non è un ragionamento preciso ma la fisica è piena poi lo si può fare in modo preciso ma la fisica è anche piena di questi ragionamenti un po' euristici ma che ti danno un po' l'idea di cosa sta succedendo quindi se si vuole essere proprio puntigliosi bisognerebbe mettere un milione di condizioni ma seguiamo questo ragionamento così ok immaginiamo l'atomo come un oggetto classico quindi una bella pallozza carica positivamente con attorno un elettrone carico negativamente che gira ok in modo simile alla maniera in cui la terra gira attorno al sole questa cosa qui è descritta dall'elettromagnetismo classico di Maxwell ok l'elettromagnetismo classico ci dice una cosa che un oggetto carico accelerato emette radiazione elettromagnetica emette onde elettromagnetiche quindi se tu acceleri un elettrone butti fuori onde elettromagnetiche il moto circolare è un moto accelerato perché c'è la cosiddetta accelerazione centripeta il centro la pallozza positiva tira l'elettrone fa sì che stia attaccato in orbita invece che invece che partirse per la tangente in un moto rettilineo uniforme come si dice ricorderete il moto circolare a velocità costante è un moto accelerato quindi un elettrone attaccato a una pallozza positiva che gira dovrebbe buttare fuori radiazione elettromagnetica ma c'è una cosa che è la radiazione elettromagnetica quindi raggi x raggi a luce visibile tutta questa roba qua il problema è che l'energia si conserva nel nostro universo l'abbiamo detto anche l'altra volta se il mio elettrone butta fuori radiazione elettromagnetica il mio elettrone deve perdere energia perché quella radiazione si porta un po' via un po' di energia banalmente mi può scaldare la mano cioè se quella radiazione mi arriva sulla mano la scalda o mi può scaldare l'acqua nel microonde e quindi deve portarsi dietro dell'energia e quindi gioco forza la deve perdere l'elettrone ma se l'elettrone perde energia rallenta siamo in un'ottica puramente classica immaginiamo come pianeti non esiste la meccanica quantistica se l'elettrone butta fuori radiazione elettromagnetica e quindi rallenta inizia ad avvicinarsi alla palla perché se la terra rallentasse improvvisamente si avvicinerebbe un po' al sole perché avrebbe meno slancio come quando fai girare una pietra attaccata a un nastro e rallenta inizierebbe ad avvicinarsi quindi cosa succederebbe che a quel punto girerebbe butterebbe fuori altre radiazioni perderebbe energia si avvicinerebbe ancora un po' sempre di più poi ancora un po' ancora un po' ancora un po' e cadrebbe nel nucleo questa cosa banalmente succede anche nei sistemi gravitazionali cioè la terra butta fuori un pochino di radiazione gravitazionale girando attorno al sole quindi tecnicamente si avvicina un po' ma è una cosa così lenta che non ci interessa non ci interessa però i sistemi classici di orbite dopo un po' collassano per questa ragione qua e quindi se tutto fosse classico spero di essermi spiegato bene l'elettrone butterebbe fuori pian pianino tutta la sua energia come radiazione elettromagnetica e cadrebbe nel nucleo e quindi la materia sarebbe instabile da un punto di vista della fisica classica non puoi avere un atomo stabile per esempio è un bel problemone perché se siamo qua a studiarla e siamo fatti di atomi questi atomi stabili devono essere in qualche maniera no? sì assolutamente tutta la chimica non è compatibile con la fisica classica per questa ragione qua no? e allora dobbiamo trovare una soluzione il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dà un'idea del perché questa cosa non possa succedere in meccanica quantistica perché una volta che tu accendi l'indeterminazione no? h tagliato non è più zero ma un valore per quanto piccolo se il tuo elettrone si avvicinasse al nucleo tu diciamo così potresti avere un'informazione più precisa su dov'è no? trattala di la velocità come? però non sulla sua velocità esattamente bravissima quindi bravissima bravissima quindi in meccanica quantistica ancora una volta è euristico è euristico ma diciamo che questo elettrone sta girando anche se non è proprio così nel mondo quantistico diciamo che sta girando che butta fuori radiazione che si avvicina ma questo riduce l'indeterminazione sulla sua posizione e allora deve aumentare quella sulla velocità e allora può schizzare via e tornare lontano e questo effetto che torna un po' si bilancia per questa indeterminazione fa sì che l'elettrone non possa mai collassare nel nucleo perché se collassa nel nucleo sai dov'è ed è fermo lì e quindi ha indeterminazione zero su tutte e due e quindi è come se l'indeterminazione di Heisenberg creasse un cuscinetto quantistico che impedisce all'elettrone di cadere nel nucleo e fa sì che l'atomo sia stabile questo implica un'altra cosa ovvero che l'indeterminazione di Heisenberg fa sì che l'elettrone attorno al nucleo abbia un'energia minima e meno di così non ne possa avere proprio perché un elettrone appiccicato al nucleo ha energia zero no poi e invece è costretto a stare a una distanza minima e quindi ad avere una certa energia minima come l'energia potenziale elettrica è data dal fatto che si attragano ma ci sia una distanza fissa tra i due e che giri intorno anche se non è più una palla ma è una roba spalmata sulle posizioni come abbiamo detto una roba tutta una distribuzione di probabilità i cosiddetti orbitali e questo è sconvolgente questo è sconvolgente perché ci dice che i sistemi quantistici spesso hanno un'energia minima che non è zero questa energia non può essere presa perché altrimenti violeresti il principio di determinazione di Heisenberg quindi a volte anche quando un sistema ha un'energia minima non la puoi prendere per fare delle cose ma ci fornisce anche la nostra teoria della materia la nostra teoria degli atomi e poi delle molecole e poi no è diciamo qui io non ti sto parlando dell'implicazione diretta del principio ma un po' più in generale della meccanica quantistica come quando ci torneremo questo è uno delle maniere in cui la meccanica quantistica ci ha permesso di capire come funziona la materia dicendoci ad esempio perché è stabile e dove stanno i livelli i cosiddetti livelli energetici degli elettroni no ed è ad esempio di livelli energetici degli elettroni di livelli energetici degli elettroni che si parla quando si parla di isolanti conduttori e semiconduttori ad esempio no ciò che distingue un isolante da un conduttore e da un semiconduttore sono i livelli energetici che gli elettroni possono avere no perché cioè poi chi ha queste bande di conduzione banda di valenza magari qualcuno ricorda queste cose ma cos'è una corrente elettrica sono cariche che si muovono o elettroni che si muovono questo ha a che fare con ciò che gli elettroni possono fare o non fare ok il principio di determinazione di Heisenberg la meccanica quantistica più in generale ci dice cosa gli elettroni cosa la materia e cosa gli oggetti in generale ma in questo specifico caso cosa gli elettroni possano o non possano fare ad esempio dove possano o non possano andare se possano muoversi liberamente o no proprio per questi vincoli quantistici e questo è ciò che distingue un isolante da un conduttore da un semiconduttore ad esempio e questo è fondamentale perché le proprietà degli elettroni in un semiconduttore descritti da una versione molto più complicata di quella cosa che abbiamo detto prima sono ciò che ci ha permesso di avere i transistor i transistor sono oggetti che costruiamo con i semiconduttori e che ci poi adesso senza entrare nelle tecnologie specifiche ma che sono la base tutta l'informatica tutta l'elettronica tutta forse anche di qualche guerra nel futuro non lo so è probabile speriamo di nuovo però insomma io sono certo che voi la parola semiconduttore l'abbiate pronunciato più di una volta nelle vostre live ecco sappiate che ogni volta parliamo di Taiwan di semiconduttori si parla tantissimo precisamente quella cosa lì ogni volta che voi parlate di semiconduttori sappiate che state parlando di un'applicazione diretta della meccanica quantistica e quindi anche del principio di azione quindi questo è un po' il gioco il transistor tra l'altro se non sbaglio è da qualche anno l'oggetto più prodotto nella storia umana quindi non abbiamo prodotto tanti esemplari di qualcosa come abbiamo prodotto transistor ah ma questa non la sapevo proprio sì sì questa poi devo controllare avevo lei il numero è una roba tipo n trilio cioè una roba che non ha alcun senso c'è una quantità proprio spropositare perché già in qualunque chip ce ne stanno una marea quindi adesso non so i numeri quindi non voglio sbagliare io da fisico poi mi sbaglio di 3-4 ordini potrei dirti milioni invece che miliardi da teorico milioni invece che miliardi invece che trighiardi è un po' tutto uguale comunque Davide se vuoi ci sono 3-4 domande cioè ora sono sbucate le domande a profusione allora innanzitutto c'è Hakim che dice ma come ci è arrivato a queste conclusioni con la tecnologia degli anni 30 la prima metà del 900 fu un'epoca pazzesca forse relativamente a un'epoca pazzesca fu un'epoca pazzesca la tecnologia era diversa da quella che abbiamo adesso in parte perché non avevano la meccanica quantistica con cui costruirla ma era sufficientemente evoluta o è una brutta parola perché poi sembra di dare una teleologia all'evoluzione una direzione era non era abbastanza era abbastanza avanzata da fare esperimenti che ti permettessero di studiare il singolo comportamento degli elettroni o dei fotoni o delle particelle in generale quindi una volta che tu puoi fare un esperimento in cui spari un fotone alla volta o un elettrone alla volta tu puoi avere dei risultati quantistici e quindi avere tutta l'evidenza sperimentale che ti porta a dover formulare la meccanica quantistica quindi questa è un po' è un po' la questione poi ci ricorda ci riserviamo tre minuti alla fine per una cosa giusto? assolutamente abbiamo tre minuti di domande e poi abbiamo un'altra cosa da dire prima della chiusura allora anche i super no scusami ho saltato Carlo perdonami Carlo i pannelli fotovoltaici hanno qualcosa di quantistico? assolutamente sì tutto il fotovoltaico tutta quella roba lì ha a che fare con l'effetto fotoelettrico che uno tra l'altro una delle cose che ha descritto Einstein nei suoi paper del 1905 quelli che abbiamo menzionato l'altra volta l'effetto fotoelettrico è un effetto genuinamente quantistico quindi sì che ha a che fare con il come te lo dico tu spari sì ha a che fare con quello che abbiamo detto abbiamo a che fare con quello che abbiamo detto perché se tu spari della luce contro una lastra di metallo ok tu puoi produrre una corrente puoi strappare degli elettroni ok ma la cosa interessante è che la luce deve avere il singolo fotone deve avere abbastanza energia da far saltare l'elettrone fuori dal suo livello energetico no mentre classicamente cosa ti aspetti classicamente cosa ti aspetti che io continuo a dare energia con la luce a un certo punto l'elettrone se la mangia se la mangia se la mangia se la mangia e poi salta fuori ok questo è quello che mi aspetto classicamente no io continuo a darti energia e continui invece l'effetto fotoelettrico ci dice che se la tua energia è una frequenza troppo bassa quindi il singolo fotone ha troppa poca energia non riuscirai mai a strappare l'elettrone anche se spari quell'energia per un sacco di tempo perché l'elettrone si mangia un fotone alla volta e se quel fotone non è abbastanza per strapparlo non succede niente non lo sputa non lo mangia nemmeno in realtà non lo mangia nemmeno perché non può mangiarlo per saltare a livello dopo questo è super interessante perché è l'evidenza del fatto che la luce sia fatta di pacchetti e che gli scambi energetici tra luce e elettroni e atomi siano discreti non continui e questo dipende sostanzialmente poi teoricamente dalle cose che ci siamo detti prima i famosi orbitali i livelli di energia degli elettroni queste cose qui e la luce fatta a pacchetti queste due cose ovviamente vanno insieme l'effetto fotoelettrico è questo ora noi lo usiamo per produrre della corrente o delle differenze di potenziale con della luce che ci arriva dal sole su degli oggetti e poi lì ci sono anche materiali specifici il silicio queste cose qua che ovviamente studiamo per i loro comportamenti e questo ce lo dice questi ce li descrive la meccanica quantistica perfetto io direi un'ultima domanda poi al massimo vediamo se c'è altro tempo ma ah grazie a Kim grazie mille per l'abbonamento dice top rubrica lo adoro grazie a Kim e allora l'ultima domanda che pesco qui è di Ivan O che chiede anche i superconduttori sono applicazioni della fisica quantistica a voglia a voglia i superconduttori sono genuinamente quantistici tu hai diversi tipi di superconduttori io non sono un esperto quindi un po' mi faccio aiutare dalla memoria ma l'idea di un superconduttore è quella di portare il tuo materiale in uno stato in cui gli elettroni si muovano con resistenza a zero sai che la corrente ha questa adesso non so se basti una resistenza bassissima secondo me serve proprio resistenza a zero però questo me lo diranno i fisici della materia in ascolto queste sono delle transizioni di fase strane che tu puoi ottenere che tu ottieni genuinamente da effetti quantistici ad esempio ci sono dei vortici che si creano le cose un po' strane o degli effetti di schermatura che fanno sì che gli elettroni ignorino o tu hai questa cosa delle coppie di cooper questi elettroni che si accoppiano per effetti quantistici e si muovono come un bosone quindi non vale più il principio di esclusione tipo una roba così quello che ci interessa adesso io non sono assolutamente un esperto di superconduttori anzi è passato tanto tempo e sentite quanto è arrugginita la mia memoria è molto casuale vari meccanismi no vari meccanismi quello delle coppie di cooper è il il principale no elettroni che nonostante siano tutti i due negativi iniziano a muoversi insieme perché gli effetti sono mediati dalle interazioni con gli atomi attorno e quindi si muovono insieme e quindi si comportano come una cosa a spina intera e non un mezzo è una cosa un po' complicata ma questo è un effetto quantistico è un effetto genuinamente quantistico quindi sì i superconduttori sono sono quasi più quantistici dei conduttori nel senso sono quel tipo di fenomeno altamente non intuitivo da un punto di vista classico quindi sì sì certo benissimo invece Davide è in chiusura perché visto che mancano poco meno di cinque minuti ci volevi dire che allora allora io sto portando in giro in realtà una serie di ma in particolare uno spettacolo che si chiama l'universo in un bicchiere nell'universo in un bicchiere anzi vi dico prima dove me la sarei dovuta preparare il 3 aprile alle 21 a Perugia l'auditorium San Francesco andrà non si dice in onda ma andrà in scena andrà in scena grazie il mio nuovo monologo l'universo in un bicchiere e l'entrata sarà gratuita poi trovate tutte le informazioni sul mio profilo Instagram l'universo in un bicchiere è un monologo di circa un'ora a tema fisico in realtà ci sono io su un palco nessuna slide nessuna musica nessun altro nessun effetto speciale un bicchiere d'acqua che è una cosa che l'ultima volta non mi ero portato a Cesenatico ma questa volta sarà assolutamente necessario in cui affronterò il più importante concetto nella storia della scienza ok lo diciamo l'abbiamo menzionato parliamo dell'idea di atomo dell'idea di atomo ma non di atomo come oggetto della chi perché ok l'atomo chimico o della meccanica sì è una roba importante perché tutta la materia è fatta di atomi ma non lo chiamerei il più importante concetto della storia della scienza ma l'atomo in quanto tale da un punto di vista se vogliamo quasi più filosofico no l'idea che le cose non possano essere divise all'infinito ok l'idea che continuandole a dividere a un certo punto tu debba incontrare un elemento minimo un lego un tassello fondamentale ora non solo vi racconterò la storia la bizzarrissima storia internazionale globale di quest'idea ma anche le ragioni per cui io ritengo che sia stata la più grande rivoluzione nella storia del pensiero e perché abbia completamente sconvolto la maniera in cui intuitivamente pensiamo al mondo e i concetti e pensiamo la maniera in cui pensiamo al mondo quindi se vi va di parlare di atomi atomi in senso no oggetti non divisibili a tomi che non hanno parti che non hanno tomi mentre i libri hanno tomi ci vediamo il 3 aprile all'eventuno a Perugia è andata bene? benissimo ma peraltro in sotto chiedevano se per caso poi ci sono già altre date perché già ti chiedevano a Padova non ancora ma se ovviamente conoscete qualcuno adesso pian pian in realtà SNI le sto finalizzando ma non annuncio nulla prima sarà qualcosa di diverso il 5 giù però appena esco un poster poi allora poi piano piano pian pianino con i vari cose ogni volta ti dico qual è il prossimo però provate a venire a Perugia anche perché poi ci si beve una birra tutti insieme un po' ruffiano no no quella è una parte top quindi ci sta ma peraltro abbiamo condiviso in chat i vari link sia dell'Instagram di Davide e anche dell'evento quindi mi raccomando mi raccomando chi è di Perugia e dintorni o comunque si troverà a Perugia andate a trovare Davide è una città meravigliosa si mangia benissimo io fado matto sì sì no è vero è vero io ci sono andata sempre a mangiare e ho mangiato sempre benissimo alla grande quindi proprio perfetto quindi mi raccomando ragazzuoli comunque noi invece ci salutiamo e ci vedremo ovviamente con la prossima puntata tra tre settimane quindi ci sarà di nuovo economica giuridica e poi torneremo qui con Davide con un nuovo argomento quindi vi ringraziamo speriamo che insomma vi sia piaciuto ma io lo vedo che siete entusiasti quando c'è Davide quindi top bene quindi grazie Davide ovviamente grazie a te che è bella e chiara quando poi te la vai a leggere quindi è anche facile da spiegare e ti ringrazio davvero tanto è stato super piacevole ringrazio anche chi ci ha ascoltati fino a questo punto e non ti chiedo come sia andata con Travaglio me lo vado a vedere su Youtube siamo sovrappi soglie that's what I'm going to do grazie